Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qui su un nuovo gioco Si chiama Crossout Praticamente il concept è simile A quello che ho portato appunto la scorsa settimana Ovvero sto parlando di junk Ragazzi qui abbiamo una macchina Ma cos'è un gioco di macchine? No E' un gioco di riparazione? No Ragazzi questo è un gioco di guerra Mentre nell'altro gioco ovvero junk Doviamo costruire le nostre ravicelle spaziali Andare nello spazio e combattere Quindi dobbiamo costruire dei mezzi di terra Che poi non so forse c'è anche la possibilità di farli volare Non ne ho la minima idea E poi mandarle a combattere La particolarità di questo gioco? La grafica Guardate quanto è fatta bene E ora vi faccio vedere Praticamente qui c'è la freccetina che mi indica qui Perché dopo andremo a giocare e sono ancora praticamente su una specie di tutorial Comunque clicchiamo build Come si può vedere siamo in modalità costruzione Premendo tab ci sono tutti i nostri pezzi a disposizione Qua ci sono i frame Una nuova arma Che guardate Struttura 217 punti Penso sia la difesa Il peso 500 kg Madonna mia E 5 punti di energia E' enorme questo fucile qui Io non lo posso utilizzare semplicemente perché Come potete vedere in basso a destra Ci sono le particolarità del mio mezzo Ovvero Di energia può avere 7 massimo In questo caso a 7 su 7 Probabilmente perché con queste 3 torrette occupano tutta l'energia Può avere ancora molte migliaia di kg di massa E vabbè insomma tutte le sue particolarità Detto questo Guardate Ganzo Se io tipo clicco col destro qui Ho rimosso la carrozzeria Premendo il tab Appunto ce l'ho di nuovo qui Quindi posso modificare totalmente tutti i pezzi Ora qui si vede che praticamente stanno sospesi in aria Comunque ok no Ogni torretta consuma 2 di energia Più quello lì che non so cosa sia Perché ragazzi Io ho appena cominciato a giocare E subito mi è piaciuto il gioco Ho detto ci devo fare un video Comunque rimettiamo alla carrozzeria Come ho già detto ragazzi Qui è tutto completamente customizzabile Come si può vedere su come miro un punto Viene evidenziato Vuol dire che lo posso rimuovere Riattaccare Posso rimuovere le ruote Metterle come mi pare Posso allargarlo Posso stringerlo Posso unire 2-3 macchine insieme Posso fare veramente tantissime cose Ma l'andremo a scoprire insieme E con calma Detto questo Andiamo a giocare in questo mezzo Che ripeto E' quello basilare Che chiunque ha Quando comincia a giocare Cosa molto importante Ragazzi Questo è un gioco free to play Chiunque può giocarlo Chiunque può scaricarlo A gratis E se non sbaglio Non pesa nemmeno molto Mi sembra soltanto 3 giga Quindi dai Ci sta Per la grafica che ha E' veramente tanta roba Detto questo Andiamo a cliccare su season Perché non andremo a fare una battaglia normale Queste qui Penso siano tipo Delle campagne In teoria non dobbiamo giocare con altri player Ma si gioca da soli E come diciamo tutorial Per conoscere bene il gioco Per spiegarlo Secondo me la campagna E' il top E invece no Queste non sono campagne Questa qui è semplicemente La missione mi sa Infatti la missione dice Di distruggire 50 riders Che penso siano i mezzi Ok perfetto Quindi clicchiamo la X E niente Qua c'è il test drive Che non ci interessa Perché il nostro mezzo Appunto è quello basilare Quindi non va testato Funziona sicuramente Andiamo in battaglia E speriamo in bene Ecco Ora qui Ci sono varie cose da fare Però l'unica che posso fare io E' questa qui Semplicemente perché è gratis Tipo questa è di livello 3 Le altre mi sembra Ad esempio questa qui Che costino Cioè richiede PS 3000 Forse sono punti esperienza Non ne ho la minima idea Comunque L'unica cosa che posso fare è questa Quindi andiamo Tra l'altro si Ci sono le missioni I ride Non so cosa sia E i clan Boh ci sono vari tipi di cose Ma ancora non le conosco Ripeto Le scopriremo insieme Intanto cominciamo La cosa bella E le battaglie Si trovano subito E what sono già in partita Ehm Sì ok I nomi dei miei compagni di squadra Sembrano parecchio reali Nel senso di giocatori veri Che stanno giocando Mentre i nemici Mi sembrano parecchio Nomi fittizi Diciamo Dati da tra virgolette Bot Quindi secondo me Stiamo giocando con persone vere Ma contro Bot Ehm Se non sbaglio il gioco è proprio fatto così Quindi allora Con il sinistro si spara Come potete vedere Questo qui Praticamente ragazzi Sono tutte macchinine uguali all'inizio Perché sono persone che hanno appena Cominciato tutti quanti a giocare Questo qui ha semplicemente La torretta mia De scende uno subito Guarda avanti L'ha posizionata in modo diverso Che figo L'ho ucciso io Sì l'ho ucciso io Guardate questo qui Ce l'ha colorato Oh ma mi viene addosso Questo qui Oh ma che cavolo Ma cosa sta facendo Ragazzi ma cosa sta facendo Comunque no Bisogna andare a conquistare la base In teoria Penso Non ne sono sicurissimo Ok forse è questa la base Ce n'è uno sulla destra Vedo dalla minimappa Sì però Boh Non so qua Dove stanno sparando Ma cosa sta facendo A chi spara Sto sparando laggiù Ma perché Ma che c'è uno qua davanti Ah no ma è un amico questo Raga ma perché sparano a caso questi qua Vabbè comunque stiamo facendo dei punti E si sta completando un qualcosa Un contatore Che sinceramente non so cosa sia Probabilmente Stando qui stiamo facendo punti E vabbè tanto tra l'altro Di nemici ne sono rimasti vitri Quindi ok Subito vinta così Easy Veloce Indolore E vabbè ok Allora punti ricevuti Nuovo livello Uh sono livello 2 Ok devo arrivare a 19.000 Di reputazione Per fare un altro livello In teoria O cioè gli sticker Ricompensa Mi ha dato un barile Di fuel Quindi penso ci sia la benzina Nel gioco E magari dopo un po' Mi si ferma la macchina Lo posso aggiungere senza problemi E l'altro non l'ho visto Perché sono lento Comunque Ah ok Cavolo ragazzi è vero Mi ero scordato di questa cosa Praticamente Subito Secondo finisce la partita Se non gli do l'ok Cioè se non gli levo l'ok Ne ricomincia subito un'altra Comunque vabbè Ne facciamo neanche un'altra E vediamo qui la mappa E diversa Ma dai ma ragazzi Ma che cazzo sana fa questi qui Ma perché mi vengono addosso E ok Da che parte si va Io seguo questo qua verde Perché non lo so Mi ispira più fiducia Ragazzi non so ancora Come andare bene la macchina E sta già sparando Uh eccoli qua Eccoli qua Perfetto ragazzi Un po' di colpi sono subito arrivati Mamma mia la precisione Ok Distruggiamolo completamente Questo qui Purtroppo ecco Mi si è fermato un assist Ho preso Non è che ho smesso io di sparare Ma semplicemente In automatico si scaldano le armi E smette di sparare E comunque come su junk Ragazzi se miro le armi Ovviamente le armi A loro si staccano Guardate infatti Come lo sto distruggendo Questo qui Penso di aver rilevato Quasi tutte le armi No no Me ne devo andare Me ne devo andare da qua ragazzi Ok No ragazzi così Questo qui l'ho ucciso tantissimo Ok perfetto Ucciso E quest'altro se non sbaglio L'ho levato tantissimi pezzi importanti Quindi non dovrebbe essere difficile da eliminare E qua ce ne dovrebbe essere uno Eccolo qui No ragazzi ma sono tutti qua Sono tutti qua Cosa sto facendo Ragazzi ho fatto una pazzia Ho fatto una pazzia Sta prendendo fuoco Io di vita sono messo malino Sono messo malino Sono messo malino Sto morrendo Ok vabbè Oh perfetto Almeno ho eliminato lui Magari Oh mamma mia la strage Però questo qui non ce la faccio No Cosa ho fatto Cosa ho fatto Li ho eliminati tutti Li ho eliminati tutti Bellissimo E abbiamo vinto E abbiamo vinto Wow Wow Cioè proprio qua Si è fatta la strage C'è scritto in qualche parte Quanti ne ho eliminati No Però cavolo Sto quasi per fare un altro livello Manca poco mi sa O forse questo qui il livello Non l'ho ben capito Comunque ricompensa Mi ha dato un'altra torretta E degli schiap Ecco Praticamente Prossima battaglia tra 8 secondi Nel senso Io qua devo cliccare Direttore sul garage Perché se no me ne riparrà Fica che tra l'altro è anche figa come cosa Comunque level up Mamma mia Quante robe Che non so cosa voglia dire però Ok No probabilmente sono tutte cose che ho sbloccato Ok Cazzate Qua c'è il pulsante Per salvare What Ah ok Ho salvato il mio mezzo Ho salvato il mio mezzo Qua fazioni Ok E cazzate Ah Ci sono anche Già le cose che si possono comprare Si questi qui sono quelli comprabili Penso Eh madonna Quanto Ma si ma perché io spendo sicuramente tutti questi soldi Per un cosettino così Sicuro Sicuro 60 euro ragazzi 60 Vabbè dai Voglio giusto un ottimo andare su build E vedere se effettivamente ho sbloccato qualche pezzo La risposta è sì Ho sbloccato dei pezzi Tipo c'è questo qui che ha due di energia Che però Ecco il problema è che non posso mettere appunto Perché se lo metto qui Guardate un pochettino Dice che sono full di energia Quindi non posso metterci niente Ho una bomboletta in teoria per dipingere però Clicca col sinistro per dipingere la parte Sì però non funziona Sì ma che cavolo di bomboletta schifosa è Scusatemi eh No non va Non va Non va Non so perché ma non va Forse devo scegliere il colore prima No non ci sto capendo nulla Ok ci sono alcune cose che non capisco effettivamente Ah questa è la rarità Ah ogni pezzo ha la sua rarità Quindi Figo 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 E poi ci sono tutte le varie categorie Ok Tipo categoriarmi Ok Questo fuel barrel me lo metto dietro Perché un po' di benzina extra ci sta sempre E lo metto Tipo qua centrale così Vabbè Penso sia buona come cosa dai Questi ci sono di vari pezzi Per appunto allargarlo E ok questo qui si posso tingere in effetti Ok si finalmente riesco a tingere Facciamolo Tamarrino No dai facciamolo tutto completamente vero No che schifo però Ho staccato un pezzo Ah questo qui è per levare la tin Ecco perché non funzionava Ok perché si può tornare indietro Perfetto E mo qual era il pezzo dietro però Van side Forse è questo No questo sarebbe da mettere laterale Mi sa Eh ma io non lo so Cosa c'era qua dietro Cosa c'era Ah ok Con la Q si possono ruotare i pezzi E con ctrl z Si torna indietro Con la E però posso girarlo Ok forse era questo qui Ma è girato così Ok dai Perfetto Non so se era giusto Però ce l'ho messo E va bene così Vabbè dai abbiamo Il nostro cosettino verde Tinto Un pochettino più tamaro Dell'inizio Ma ho fatto un po' di partite Ci sta Sono abbastanza soddisfatto Spero Nei prossimi episodi Comunque di riuscire A sistemare un pochettino Di più questa roba Magari a migliorarla E se possibile A costruirne Magari una totalmente da zero Un pochettino migliore Per il momento Non posso Nello shop Le cose Che non è questo Lo shop Non so se c'è Ok c'è il market anche Io non ho i soldini Quindi non posso comprare niente In teoria Però spero in futuro di sì Detto questo Spero che questo video Leggissimo vi sia piaciuto Io mi sono divertito Veramente molto Perché lo trovo Veramente figo Come gioco Svoluto simile Agli altri Che in passato ho portato Quindi ci sta E quindi Ciao a tutti